Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, martedì 4 agosto 2020. Cominciamo subito con il santo del giorno e poi vediamo le previsioni e subito i giornali perché c'è come tutte le mattine tanta roba e il tempo è poco. Allora, 7 e un minuto, buongiorno a tutti, San Giovanni, Maria Vignè, questo è il santo di oggi. Andiamo a vedere il tempo, oggi sarà una giornata perturbata, l'abbiamo già annunciata diverse volte, sparse a prevalente carattere di rovescio, saranno le previsioni, le precipitazioni contemporali nel centro nord della regione, quindi l'Anconetano, il Pesarese. I temporali saranno oggi anche di forte intensità, quindi facciamo attenzione con il vento che nell'entroterra sarà anche fino a Burrasca per l'instaurarsi del Garbino, mentre sul mare lungo la costa sarà di brezza tesa. Per domani il tempo non è che sia tanto migliore di quello di oggi, avremo per domani, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, ancora precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio con fenomeni più insistenti ancora sulla costa pesarese e anconetana. Poi il miglioramento, possiamo dire, giovedì 6 agosto, soprattutto sulla costa, mentre continua ad essere perturbato nell'entroterra e quindi sugli appennini ancora continuerà il maltempo fino a giovedì. Come sempre andiamo a vedere invece il tempo con l'aiuto del nostro bagnino che oggi è sempre lì, puntuale al lavoro, ma insomma comunque immagino che non avrà tanto da fare con i bagnanti. Buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno Marco. No, oggi non attendiamo troppe persone al mare. Ecco, vedo. Siamo ciclati da maltempo e sicuramente condizioni metomarine sfavorevoli oggi. Ecco, vedo anche insomma giù dell'acqua che scende, nel senso che ci sono degli scrosci di tempo. Vedi quella, se ti giri Tome. Sì, sì, in mare sta piovendo. Ecco, sta piovendo, vero? Adesso l'immagine è un po' così. Sì, in mare allargo piove. Si capisce bene che allargo piove. Bella questa immagine. Grazie Tome. Allora per domani lo stesso, il tempo non è che sarà un granché. Eh sì, aspettiamo anche una giornata di domani, è abbastanza pessima. Bene. Grazie, buona giornata. E allora andiamo a vedere i giornali con il titolo d'apertura del resto del Carlino. Agosto fa respirare gli albergatori, aumentano le prenotazioni, si arriva fino al 75% di occupazione delle stanze nei giorni clou. A centro pagina il Covid ieri e oggi, nuovi ricoveri, parla Umberto Gnudi, il primario simbolo. Quattro persone portate al pronto soccorso da Montecopiolo, più giovani e meno gravi di marzo, via oggi allo screening di massa. A Fano arrestati, una coppietta di pusher nascondeva la cocaina tra i girasoli, mentre sulla sanità tra Pesore e Fano, ginecologia e ostetricia, mamme in campo per i reparti. Le mamme pesaresi vorrebbero riaprire un reparto di ostetricia e ginecologia no Covid anche al San Salvatore, per non dover arrivare sempre a Fano. I dati della CNA invece, più aperture che chiusure di aziende dopo il lockdown. Il calcio via al pre-raduno, il pallone torna al Benelli, la nuova Vis è in marcia. Mentre a Frontone se la sono vista brutta, perché un'auto fuori controllo è finita contro una centralina del gas, a causa di un malore del conducente, è finita fuori strada. Minuti di paura per il rischio di una forte esposione in centro. Fondi in arrivo, 7 milioni alle scuole dell'infanzia, la Regione approva i criteri di ripartizione. Bravi, dice, agevolazioni tarifarie, ecco a chi. Il Corriere Adriatico, il capolinea del trasporto scolastico, posti nei mezzi dimezzati per le regole anti-Covid, il 35% degli studenti rischia di rimanere a piedi. Al liceo Marconi su 2.000 ragazzi, almeno 1.200 utilizzano i mezzi pubblici. Ed è una corsa contro il tempo per trovare delle soluzioni. A centro pagina, giro di vite, un nuovo daspo urbano, la guerra contro i bivacchi e il degrado in centro storico. L'intervista al sindaco Matteo Ricci sulla intitolazione dei giardini a Bettino Craxi, le polemiche, dice lui, secondo me, astio esagerato. Non credo fosse una necessità quella di intitolare i giardini Matteotti a Bettino Craxi. Non credo fosse una necessità, ma una cosa giusta. Un sindaco, dice Ricci, ha il compito istituzionale di sanare certe fratture. Certo, mi ha stupito scoprire, dopo tanti anni, ancora tutto questo astio. In breve, da Pesaro ripartono le cucine, la chimica, il tessile, il resto invece boccheggia, terre roveresche ridotte, imu e tari, l'esito dei risparmi a tre anni dalla fusione. E poi l'indagine, l'indagine Istat, sui contagi veri, che sono nelle Marche, più di 40.000. Coca nel campo di Girasoli, presa una coppia di spacciatori, disoccupato e commessa scoperti dai carabinieri, il can antidroga One ha scovato il nascondiglio. Lo Sport raduno i primi test in campo, la Vis riparte con entusiasmo. E adesso andiamo a vedere la pagina del Corriere Adriatico, dove appunto si parla di questa notizia, notizia interessante, ma che già si sapeva, se vogliamo, da molto tempo, anche mentre stavamo vivendo quei mesi terribili della pandemia. Cioè, l'idea che circolava era quella che i contagi erano molti di più rispetto ai numeri ufficiali, perché poi i numeri ufficiali erano quelli dei tamponi, ma in realtà in tanti sostenevano che ad essere contagiati fossero molte, molte più persone di quelle ufficialmente riconosciute dai test. E infatti, che cosa succede? Istat e Ministero della Salute ieri hanno diffuso i primi dati di questa indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2, secondo cui le persone entrate in contatto con il virus, che dunque hanno sviluppato anticorpi, sarebbero in Italia 1.482.000, dunque il 2,5% della popolazione residente, sei volte di più rispetto al totale dei casi diagnosticati con il tampone. Nelle Marche, la stima per le Marche è esattamente al 2,7% della popolazione, che lo ricordiamo è di 1.518.000 abitanti, che in valore assoluto farebbero 41.630 contagi teorici. Cioè, rispetto ai 6.800, più o meno, che sono quelli ufficialmente riconosciuti come persone contagiate grazie al tampone, in realtà sarebbero sei volte tanto i marchigiani che hanno contratto il virus e che probabilmente molti di questi non nemmeno si sono accorti di averlo avuto. Come si fa a sapere se uno ha avuto il coronavirus oppure no? Bisogna fare il test sierologico. Questo è l'unico modo per scoprirlo. Intanto questa mattina alle 9 a Montecopiolo, in piazza, c'è l'appuntamento perché parte uno screening, uno screening di massa per tutto il Paese. Sono circa 900 cittadini tra residenti, domiciliati, persone presenti a Montecopiolo per motivi di lavoro e tutte queste persone dovranno sottoporsi a questo test, a questo screening di massa. Poi entro un paio di giorni, così come dice il coordinatore, si potranno avere i risultati. I positivi saranno poi contattati direttamente da noi. Mentre da Montecopiolo in quattro sono finiti al pronto soccorso. Gnudi dice più giovani meno gravi. Il primario fa il confronto con Marzo, casi non paragonabili, ma la soglia di allarme sta aumentando rispetto ad un mese fa. In arrivo poi, questo è l'annuncio di una notizia importante, l'arrivo di un macchinario che, dice Gnudi, ci farà processare i tamponi in 40 minuti e quindi si potranno avere risposte molto più rapide. Dalla cronaca di Fano, del resto del Carlino, spuntano tra i girasoli tre etti di cocaina. Sono stati arrestati due giovani, una coppia, un 25enne albanese con la sua finanzata 22enne di Fano. Una ragazzina che fa la commessa, scrive il giornale, in un supermercato e che ufficialmente mantiene anche il suo fidanzato disoccupato. I carabinieri li tenevano sott'occhio ormai da un po' di tempo, da quando cioè era arrivata la segnalazione di uno strano andirivieni di due giovani in automobile in un campo di girasoli in fondo a Via Papieri a Fano. Grazie alla targa che ha fornito un anziano fanese, i militari sono risaliti prima alla ragazza e poi anche al compagno. E grazie poi al pastore belga di nome Juan, che è un cane dell'unità cinofili di Pesaro che in tante occasioni ha dato prova di avere un fiuto infallibile riuscendo a scovare droga celata nei posti più impensabili, ha cominciato con il suo fiuto a scavare fino a quando ha portato alla luce questo tesoretto sommerso, tesoro sommerso di ben 300 grammi di cocaina, che insomma del valore di 15 mila euro, e un bilancino di precisione dei ritagli di celofano. A quel punto i militari hanno lasciato tutto lì aspettando che qualcuno andasse a prendere tutta questa roba. E poi il racconto, insomma, i dettagli nel giornale di oggi. Sull'Alzheimer invece il centro riparte dopo Ferragosto, il centro Margherita, durante un incontro con il presidente della regione Ceriscioli è stato chiarito che il numero degli operatori potrà restare lo stesso e le tariffe non saranno aumentate. Ora, resta da capire perché ci sono voluti sei mesi per arrivare a dire che il numero degli operatori resterà lo stesso e che le tariffe non saranno aumentate. Ci sarà un perché, chiaramente, ci sarà un motivo, ma sarebbe bello conoscerlo, visto che tutto rimane così com'è. Intanto, confermato il finanziamento straordinario di 60 mila euro, vale a dire 20 mila euro dalla regione e 40 mila euro dal comune di Fano. Dicevamo che gli abitanti di Frontone se la sono vista brutta nella giornata di ieri perché si è rischiata una gravissima esplosione nel centro del paese. Un'auto alimentata a metano impazzita per un improvviso malore del conducente uscita di strada finendo contro una centralina del metano innescando perdite di gas che avrebbero potuto provocare una violenta deflagrazione proprio nel centro abitato. Allora, questa è la fotografia, ve la faccio vedere intorno alle 13 di ieri una panda questa panda che vedete nella foto di colore blu condotta da un 58enne a un certo punto stava andando per la via principale del paese quando improvvisamente l'uomo ha accusato un malore e vedete si è fiondata contro questa è andata a finire contro un muretto l'ha scavalcato e ha rotto la centrale del gas metano. A quel punto l'auto è andata contro questa centralina e è scattato l'allarme in strada non c'era nessuno in quel momento perché parliamo delle 13 quindi ora di pranzo piccolo paese sicuramente tutti erano a tavola e per fortuna le cose sono andate nel verso giusto ma insomma si è sentito un forte puzzo di metano che usciva dalla centralina l'auto oltretutto alimentata appunto a metano bastava una minima fiamma per innescare una terribile esplosione è andata bene e quindi non resta che accendere un cero allora truffa dello specchietto invece non è andata bene per questo uomo per questo povero signore di 92 anni di Pesero che era all'ipercop aveva fatto la spesa evidentemente quindi procede lentamente con la sua macchina improvvisamente ascoltate che cosa succede viene accostato da un'altra automobile ascoltate bene perché quando poi succede uno non si rende conto lì per lì di quello che sta vivendo però magari sentendolo dire uno potrebbe essere in qualche modo aiutato a non cadere in queste trappole perché di trappole stiamo parlando una truffa la truffa dello specchietto allora questo omino di 92 anni dicevamo di Pesero era alla guida della sua macchina era al parcheggio a un certo punto viene accostato da un'altra automobile dove all'interno c'è il truffatore un uomo che non ci ha scritto truffatore sulla fronte quindi bisogna individuarlo bisogna capire quali sono le sue intenzioni e dalle sue intenzioni cercare di capire cosa ha in mente di fare e cosa ha fatto si è accostato la macchina a un certo punto probabilmente ha battuto con qualcosa contro la carrozzeria per creare rumore il rumore eccetera oppure anche semplicemente niente anche senza fare nessun tipo di rumore si presenta con uno specchietto rotto in mano quello della sua macchina comincia a inveire a urlare contro questo povero 92enne che si ritrova questo signore davanti con questo specchietto rotto e la sceneggiata è talmente reale che questo povero anziano ci crede ci casca e dice mi dispiace il tuffatore ovviamente la fa tanto lunga è un attore è un attore nato quindi comincia a dire qui ci vogliono 200 euro per sistemare la cosa evitiamo di andare dai carabinieri qua e là su e giù il nonnino di 92 anni cosa fa mette mano al portafogli tira fuori 200 euro perché così è andata e ha pagato il tuffatore che poi se n'è andato via l'anziano sotto shock che si è sentito davvero responsabile del danno ha messo mano nel portafoglio dice meglio pagare subito per evitare guai ulteriori e così l'uomo consegna circa 200 euro al tuffatore che sale in auto e poi va via facendo perdere le proprie tracce all'anziano non resta che avvisare i suoi familiari farsi accompagnare da sua nipote a denunciare nonostante le taglie a ciacchi dai carabinieri insomma la polizia quello che gli è accaduto le indagini sono in corso ma capito ormai uccelli bosco botte fuori dalla discoteca invece l'altro articolo che troverete sul carlino di questa mattina Montecchio un litigio finisce a pugni e schiaffi il sindaco Cucchielli firma due ordinanze su schiamazzi notturni e a cattonaggio è successo dopo le due del mattino di sabato scorso all'interno di una discoteca di Montecchio dove è scoppiata una lite tre giovani da una parte due dall'altra gli animi si scaldano forse anche a causa dell'alcol i due gruppetti iniziano a litigare finiscono fuori dal locale e il confronto verbale ben presto degenera la coppia di aggressori si scaglia sui tre rivali tutti italiani e lì volano schiaffi pugni i due picchiatori sanno usare le mani e hanno la meglio le altre tre persone finiscono all'ospedale con varie ferite al volto mentre anche qui da Vallefoglia scazzottata tra giovani davanti alla discoteca violenza nella notte bianca il sindaco parla di un fatto isolato poi firma due ordinanze per l'ordine andiamo sul Carlino di nuovo sul Carlino di Pesaro turisti ferragosto antivirus prenotate otto camere su dieci hotel spiragli di luce clienti abituali ma non solo quelli dice Fabrizio Oliva presidente degli albergatori le strutture aperte sono 40 su 49 pochi gli stranieri tranne chi arriva per il Rossini Opera Festival sull'altra pagina luglio è stato tutto in salita abbiamo avuto coraggio ad aprire parla Berti dell'hotel spiaggia e guerra dell'hotel Rossini così come Gasparini dell'hotel Clipper che raccontano quali sono stati gli ostacoli da superare con le norme anti-covid che hanno limitato sia i posti letto che la pensione completa e intanto c'è una tendenza ovvero cresce il numero di chi utilizza anche il bonus vacanze Darsena Borghese siamo sul Corriere di Fano Darsena Borghese camminamento il nuovo polo urbano di attrazione ristrutturazione con poco più di 400 mila euro approvato il piano dell'architetto Bursi oggi arriva la ministra Fano che visiterà la cooperativa Falcineto il Codma Bellanova alle 18.30 lancia la candidatura di Talè però a me sembra che da quello che ricordo è arrivato un messaggio nella giornata di ieri adesso controllo un attimo la chat di redazione perché mi pare sì che ci sia un cambiamento per quanto riguarda il programma con il ministro Bellanova arriverà a Fano al mattino e farà le tre tappe che doveva fare nel pomeriggio ecco questa era l'ultima notizia che ci siamo scambiati ieri sera nella chat di gruppo della redazione di Occhio alla Notizia quindi ve la do così come aggiornamento poi Ruggeri ecco il progetto per il porto in risposta al vescovo la candidata Movimento 5 Stelle rilancia la soluzione al problema dell'interramento autorizzati a bere dei genitori girano con gli zaini pieni di alcolici il comandante della polizia locale Brunaccioni di Senigallia dice cerchiamo di bloccare il fenomeno pochi ci ringraziano purtroppo i figli minorenni e questo è un dato di fatto ma non solo a Senigallia un po' in tutta in tutta la costa i figli minorenni che vanno in giro con gli zaini carichi gli alcolici e i genitori li difendono anzi ammettono di essere loro a dargli il permesso di bere sono ragazzi dicono dovranno pure divertirsi sconcertante la reazione che molti di loro non tutti però hanno avuto una volta convocati al comando della polizia locale dopo che i figli sono stati sorpresi con alcolici al seguito la multa infatti essendo loro minorenni dovranno pagarla ai genitori nessuno ha annunciato ricorso e quindi la sanzione di 50 euro la pagheranno hanno avuto però da ridire contestando il fatto che i figli avrebbero potuto anche i vigili scusate avrebbero anche potuto chiudere un occhio in fondo questi ragazzi hanno il diritto di divertirsi e non ci vedono nulla di male se la sera si scolano una bottiglia di vodka ora sembra di leggere bove lasciamo stare andiamo avanti bus contromano sul lungomare momenti di panico tra i passanti il maltempo causa la fuga dalla spiaggia ma la coda è smaltita molto dopo le modifiche alla viabilità siamo sempre su Senigallia e parliamo di un'altra domenica di disagi sul lungomare Da Vinci al Cernin dove un autobus ha imboccato contromano il senso unico schivando automobili biciclette e pedoni dunque creando anche momenti di panico che per fortuna hanno avuto non hanno avuto conseguenze per nessuno però insomma si è creato come già era accaduto a giugno un lungo serpentone di auto incolonnate sul lungomare in uscita verso il sud mentre si è spento l'ex capo del deposito ferrovie Carlo Mazzarini di 90 anni lo vedete in questa fotografia era una presenza fissa ai bagni gabbiano anche qui parliamo di quei personaggi storici delle città in questo caso di Senigallia dopo la pensione aveva iniziato a dare una mano sul litorale al figlio al figlio Paolo e al nipote Gabriele i funerali si sono svolti alla chiesa della pace mentre andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico fondi e siamo sempre su Fano fondi a giovani imprenditori coperto il peso degli interessi sarà il contributo della Fondazione Carifano e progetti ammessi al finanziamento aderiscono Creval e BCC di Fano prestiti fino a 50.000 euro per la metà del capitale e poi a terra roveresca invece nasce il centro salute intitolato a Carlo Amodio a Orciano cerimonia le 20.45 integrati i servizi della struttura di articolo 32 Urbino il Carlino comune riduce la tassa rifiuti per le aziende delibera per venire incontro alle industrie e agli artigiani che hanno dovuto sospendere in qualche modo l'attività a causa del coronavirus poi andiamo a vedere l'altra pagina e qui siamo sullo sport lo sport dal Corriere Raduno primi test subito in campo la vis è ripartita la squadra si è ritrovata allo Trail Cruiser la nuova stagione iniziata da Pugioni ai nove giocatori in prova ecco la rosa affidata a Galderisi Galderisi è l'allenatore mentre questa è la foto di gruppo appunto della nuova vis Pesaro sul fronte invece dell'Alba Juventus Fano un Fano a sfondo bianconero l'incontro da fissare con Lascoli per proseguire la collaborazione primo passo è il primo passo per sbloccare il mercato dalla primavera intanto potrebbero arrivare altri under tutto da decifrare invece il destino di Tofanari Ricciardi e di Tassi mentre età media più bassa tra arrivi e partenze il Mondolfo ha cominciato un nuovo ciclo è rimasto anche Messina in entrata sono quattro le operazioni perfezionate e questa era l'ultima pagina della nostra segna stampa prima di salutarvi abbiamo ancora un minuto per farvi leggere e farvi dare un'occhiata velocemente alla prima pagina del resto del calino del Corriere Adriatico questo resto del calino la fotonotizia è per il Covid ieri e oggi cioè il confronto tra quelli che insomma si sono ammalati a marzo e quelli che si stanno si sono ammalati purtroppo nell'ultimo periodo e che finiscono comunque qualcuno è finito anche all'ospedale parliamo di quattro persone che sono state portate al pronto soccorso da Monte Copiolo dove c'è stata questa famosa benedetta cena sono più giovani dice Nudi e meno gravi ovviamente di marzo nessuno è in terapia intensiva intanto oggi lo ricordiamo Monte Copiolo parte lo screening di massa poi in apertura invece il titolo agosto fa respirare gli albergatori c'è un dato positivo a Pesaro che è quello delle prenotazioni che però riguarda solo questi 30 giorni insomma quello che resta questi 25 giorni si arriva fino al 75% di occupazione delle stanze nei giorni clou andiamo a vedere invece velocemente il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico decide l'apertura di Pesaro sui trasporti scolastici anche qui c'è un problema che andrà affrontato andrà risolto al più presto perché i posti nei mezzi pubblici che trasportano appunto gli studenti a scuola che dovranno trasportare e portare gli studenti a scuola sono dimezzati per le regole anti-covid e quindi le regole sono quelle del distanziamento se prima ci stavano 50-60 studenti in un autobus qui adesso ce ne stanno probabilmente la metà il 35% quindi degli studenti rischia di rimanere a piedi al liceo Marconi su 2.000 ragazzi almeno 1.200 utilizzano i mezzi pubblici e dunque capite che insomma manca un mese all'inizio più o meno della scuola no un mese poco più ma se ci mettiamo dentro il ferragosto e qualche giorno di sosta per chi organizza deve lavorare su questo fronte chiaramente il tempo si riduce poi c'è il giro di vite invece a centropagina sulla guerra sui bivacchi e sul degrado quindi guerra a queste situazioni di degrado e dunque è partito un nuovo daspo urbano e poi si parla anche della targa ai giardini Craxi voluta dal sindaco Ricci c'è un'intervista che Silvia Sinibaldi ha realizzato con il sindaco il quale dice non pensavo che dopo tutti questi anni ci fosse ancora così tanto astio nei confronti di un leader di un personaggio politico come Bettino Craxi da Fano poi la coca nel campo di girasoli presa una coppia di spacciatori si tratta di un disoccupato albanese di 25 anni con la sua finanzata una commessa che lavora in un supermercato di 22 anni scoperti dai carabinieri avevano deciso di sotterrare la droga in un campo di girasoli in fondo a via Papieria a Fano con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa vi ringrazio per la vostra attenzione vi ricordo che le vostre segnalazioni sono sempre per noi importantissime vi facciamo vedere adesso anche il nostro numero di telefono per per segnalarcele eccolo qua 338 4968 250 buona giornata ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia grazie a tutti Grazie a tutti.